Ciao! I am Grax Gamberetto! Se sfruttiamo bene Yoshi, forse lo recuperiamo. Tra l'altro Yoshi, ragazzi, l'abbiamo in chiamata. Sempre al top! Oh my god! Ne ho presi tre, ne ho rischia di tre. Eh, c'è un team anche sotto per fortuna Bull. Mamma mia, che chiappa, ragazzi. Come ha fatto essere già lì con la pipe? Non lo so, aveva i razzi, il nostro. Era velocissima, ma scendate i chiappe perché questo è un meno tre, eh? Ricordo, ragazzuoli, stiamo forse arrivando alla fine del tunnel del drop di Colt. 8 coppe da recuperare e lo facciamo con uno Yoshino che ha trovato Leon e ha completato la collezione a tutti quanti i brawler. Quindi il prossimo video sarà insieme a Yoshi. Tipo, Yoshi arriva a 13.000 coppe e sblocca, non ricompensa perché non c'ha... No, mi sa 14.000, vero? Sbaglio, 14.000. Dovrebbe essere... Eh, lo faccio, eh! Anche perché io ho il succone. Volevo killare il Bullino, ma... Uh! No! No! Non buttare via 8 popper app i Grax, l'ho fatto! Arrivo. Io sto distraendo Yoshi con dei discorsi inutili in questo momento perché stiamo quasi al comeback di Colt. Oh! E chi rinasce? Sono tutte Piper, maledette Piper. Questa è una mappona per Piper. Col succo di una certa supposta... Acide. Velenose! Grandi quei colpi. Eh, devo avvicinarmi. Eh, no. Eh, no, non mi avvicino. Oh, 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 oh. Yoshi, non esiste! Ok, folle quella giampata! In realtà fa rinascere Beryl che neanche se lo aspettava. Voglio il più tre, voglio il più tre, voglio il più tre! Non esisto! Sto giocando a nascondino! Tanna per Colt! Boh, no! Dai, mi sono fatto, vedete, ma so pollo! Ce l'ho con sti colpi, regà, a tratimento? Che li vado a cercare proprio! Ok. Lo possiamo fare. Lo abbiamo recuperato. Ne sono sicuro. Secondo me è un più sei questa, te lo dico. Fate Merchit, ragazzi, se non è un più sei. Fate Merchit, ragazzi, se non è un più sei! Ve lo dice il signor Grax! Non è un più sei, infatti, è un più tre. Però so contento lo stesso, anche se quella è... Vabbè, quella va persa per andare giù, ragazzi. Mi sciolgo sempre sul finale. Comunque vi faccio vedere. Cinque coppe, più sei recupero di Colt. E poi proveremo anche il push al grado 18. Rimanete sintonizzati, like, iscrizione e conto su di voi. Vi giuro, ragazzoli, non ne posso più di questo troppo incredibile di Colt che non mi ha permesso di registrare con Nemossetto il video delle 8000 coppe. Sta tardando. Sto vedendo la chat impazzire di cheat, ragazzi. Fate bene, fate bene, perché volevo troppo da quella partita. Là non c'è nessuno. Da Cenzucco. Eccolo! Sì! Grazie. Oh my god, su postoni incoming. Una e due. Cleanna tutto, Yoshi, come Shantecler. Mamma mia, chi pulisce più di Yoshi? Nessuno. Produt placement per la Shantecler. Mi raccomando, ragazzi, sono qua se volete. Posso mettervi un loghetto tipo così. Shantecler a paraschermo. Vi faccio anche la canzoncina fatta da Crax. C'è qualcuno... E immaginavo, lo immaginavo. Amplierata. Bella ulti, che cosa ho fatto? Più tre regalato, ma attenzione a quella scegli che non riusciremo mai a killare anche perché mi fa la ulti. Eh, va bene, va bene. L'altro più tre, ragazzi. Mamma mia. È colpa mia, però grazie alla ulti abbiamo fatto il più tre. Sono contento. Ottima quella kill. Peccato che non riusciamo a confermare il power up. Guarda, quello sulla destra si può rischiare. C'è qualcuno. Magari tu sei più veloce. Sei power up totali. Cinque squadre. Per volare... Sulla limpo del recupero di Colt. E lo recuperiamo di brutto perché questo è un più sei. Voglio un altro shit, ragazzi. Questo è un più sei. Tutte i Piper! Tutte i Piper, Yoshi! Solo Piper. Oh my god, buono questo. Vai. Ok. E dobbiamo per forza pusharli perché altrimenti ci prendono il succo. Eh, calma. Prendo e vado, prendo e vado, prendo e vado, prendo e vado. Almeno di sicuro non mi vengano a pushare velocemente. Spero che non ci sia nessuno. No, non c'è nessuno. Sono fortunato ad essere in questo angolo. Di paradiso. Noasi in mezzo al deserto. Che è successo? Sta laggando? No, ok. Tre squadre. Andrebbe bene anche la seconda posizione. Oh, busti 8. Ok. Genio con 8. Piper con 8. Colpita Piper con 8. Se non errore, Piper è solitaria quella da 8. Sì, sì. Dai, 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 dai. Uniamo le forze. Prendiamocelo. Olè. Deve andare giù. Ok. Come back. Come back eseguito. Come back fatto. Ma quella Piper, ragazzi, ne ha 16. È impossibile come backarla. Io ci provo. Prendo il succo della vita. Il tavernello divino. Il divino tavernello. Potrebbe aiutarci nel completare la missione. È impossibile, ragazzi. È impossibile. Ma se Yoshi l'indebolisce, io magari colpisco dalla distanza il nulla. Eh, non sono scarsi. Pocio è tanta roba. Pocio è tanta roba. Soprattutto in una zona aperta. Ci provo, ragazzi. Ci provo, ci provo, ci provo. Grande kill. Grande kill. È impossibile. Pocio cura. Va bene, ragazzi. Il recupero è avvenuto. 3.81. Recuperato colt. Adesso lo pusciamo. Adesso lo pusciamo. Rimanete sintonizzati all'acca iscrizione. Grazie a Yoshi per averlo fatto. Voglio farvi vedere, nel frattempo, l'account di Yoshi. Perché l'avevamo lasciato, ragazzi, con 12.000 coppe. Guardatelo adesso. 12.544. In record. Gli sto facendo fare sempre il record. Perché con quest'ultimo Leon. Uscito da dove, Yoshi? È uscita una cassetta piccola, megacassa. Nello shop a 349 giga. Lo hai preso. Non hai resistito alla possibilità delle 13.000 coppe. Ti capisco che hai fatto bene, hai fatto bene. Con questo Leon pusherà 13.000. Noi adesso facciamo un piccolo taglio. Vediamo fin dove riusciamo ad arrivare con colt più Leon. Buoni tutti, perché questa partita è importantissima. Uh, è da sola quella. Importantissima. Eh, sì. Kill easy. È da sola anche quella. Sono due team solitari. Ok. Non vuole far caricare le... Ah! Ha preso dal mazzo, proprio. Uh! Buono, però. Ho caricato quasi la ulti. Buono. Buono. Grabbami, Genese, il coraggio, no? Basta, con stato Fire Grax. Basta, con lato Fire Grax. Basta, con lato Fire. Ho sentito qualcosa muoversi. Vai, it's time to push. Ci dando power. It's time to shine! Mamma mia! Ho fatto il grado. Ragazzi, incredibili. Tutti incredibili i video con Yoshi. Ci mancano solamente 12 coppe. Ora, cambiamo subito il codice. Yoshino in record. Grado 15. Stiamo spaccando tutto. Raga, non lo so come poi riuscirò a ditare sto video perché è una cozzaglia di clip. Però forse lo farò. Questo è l'importante. Nice. Subito doppio power up. Porta troppo bene cambiare il codice, ragazzi. Ve lo dico. Molto spesso cambiatelo perché vi refrescia... Vi refrescia tutto. Vabbè, comunque, mi ha portato 5 power up. Va benissimo. Nice. Non aspetto neanche. Me ne sto qui subito. A me non nessuno mi vede. Rinasce Yoshino. e vediamo come muoverci. Ancora 5 squadre. Dacci in su. Oh, non ce n'è stato più uno. Neanche uno. Basterebbe un succo. C'è una squadra. Oh, ecco. Ecco il succo. Grazie. Eh, tanta roba. Il genio che potrebbe andare giù. Vai, vai, vai. Guarda che quel genio muore. Ti provo a dare una mano. Oh, è... Ma perché me? Rimango sull'angolino. Ok, ho fatto bene a rimanere qua. Scendo sotto. Mi sa che non c'è nessuno lì. Spero, 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 spero. Grax super camper. Nessuno può vedere Grax. Ecco la Piper. Sì, sì. Parte. Yoshi Prime. Lo prende. E se lo porta a casa. Lo porta a casa. Un'altra ulti. Un altro power up da prendere. Ma c'è il genio che fa malissimo. Jump a Piperina. Se va giù Piper è fatta. Buona... Ne ho dieci. Yoshi è il momento. Yoshi è il momento. Yoshi è il momento. Già il più tre va benissimo. Il genio è costretto a rimanere da quella parte. Ho paura della grabata del genio. Tutto per te, Yoshino. Vai. Pushatelo come se non ci fosse un mani. Vieni a grabato. Mi sta laggando sul momento più topico. Non ci credo. Però il più se l'abbiamo preso. Ultima partita. Per fare la storia del mio colt. Un colt che veramente ha avuto alti, bassi, montagne, abissi. Regà, il delirio è più totale. Da 330 a possibili 420 coppie. Segno della croce. Rimbocchiamoci le maniche. Anche se c'ho le maniche corte. Proviamo. Mi sa che c'è un'altra cassa di là. Giocarla. Ok, quella... Eh, c'è Scellina. Ah, lo stesso team. Scellina. Loro sono a due, noi siamo a due. Ci vuoi provare te, eh? Vuoi provare... Oh! Bello questo. Dammi la mano qua, dammi la mano qua. Bella kill. Occhia paperina. Può fare malissimo, ma non può fare così troppo male con un colt e così on fire questa sera. Certo, aver fatto tutte quelle kill e portarsi a casa così pochi power up fa veramente male al cuore. Cinque power up per Shelly. No, 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 no. Ce la puoi fare, Yoshino, ce la puoi fare. Io so che ogni video che registro con Yoshi, ogni contento che faccio Yoshi, sono epici, quindi questa sarà epico. Ne sono più che sicuro e non so se sia questa la vittoria, ma non so se supportarti oppure rimanere meglio. No, 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 resta lì. Qui ci starebbe bene, sono solo un cespuglio. Sono solo un cespuglio, schifo. Quelli con nove power up. Buono. Zero coppe perse, genio che va giù. Ma non possiamo accontentarci della seconda posizione, qui abbiamo bisogno di una prima posizione. E se rimane Shelly va comunque bene. Mamma mia, quel colt cosa ha fatto? Quel colt cosa ha fatto, ragazzi, quel colt? Uh. Beh, bei colpi, bei colpi. Ah, è un ulti perfetto. Ah, buono, buono. Più tre, però, eh. Buono, buono. Più tre. Quattro e diciassette. Torno anche indietro per vedere le coppe, perché siamo esattamente, ragazzi, 85, mancano 15 coppe. Siamo in record? Siamo in record? Quindici coppe alle 8.000. Un pollice all'insù se volete il video insieme a Nemossetto, perché rifaccio sempre con Nemossetto gli sblocchi delle casse. Questa è la partita decisiva. Quattro e diciassette. Facciamo un più sei. Chiudiamo il video. E non ne posso più. Colt lo archivi, ragazzi. Lo metto nel cassetto. Non esiste più, me lo giuro. Ho trovato più facile stecca di colt. Colt è troppo difficile. Me ne vado, me ne vado, me ne vado. Prendere quei power-up sarebbe stato incredibile. Ho avuto un attimo di indecisione. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. I grandi kill su quella stecca. Peccato che ci sono morti. Se sicuramente proverà addirittura il push su Piper. Ma torna indietro. C'è un succhetto. Un colt avvelenato. Uno Yoshi che prende il succo. Può fare la spedizione di Yoshi. È quello che parte. Sì, no, rinasce, rinasce, rinasce. Tra l'altro stecca. C'è anche Mortis on fire nella parte alta. Questo ci viene a tagliare. Ci viene a cogliere. Ci fa fare almeno sei, ragazzi. Sicuro. Cerchiamo di... Bravo, bravo. Una via di fuga, una via di fuga. Una via di fuga. Fune di fuga per Grax. Fune di fuga per Grax. Sta arrivando sopra. Ok, è andato. Sì, 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 sì. Mi piace. Non sarà una prima posizione. Ok. Guardali, guardali. Guardali, guardali. Sì. Zero coppe perse. L'altro team è qua. È 10 power. Non è facile per niente. Però se Mortis ha quella spocchia tattica e dice, vabbè, io non uccido il team più scarso, ma uccido quello più forte, ce lo può fare, eh? Ma manca colt. Manca colt. Io rimarrei invisibile. C'è spuglia gain per Grax. The best c'è spuglia in the world. Ci viene a cogliere. Eccolo qua. Non esistono, non esistono, non esistono, non esistono, non esistono, non esistono. Sono solo un cespuglio. Schivo quelli come Mortis. Guarda, guarda, guarda. E l'abbiamo fatto. Posso provare a fare qualcosa, regà? Non succede, Yoshi, perché non succede. Te lo dico che... Ne ha 22. Cioè, non può matematicamente succedere. È impossibile. Però se anche riuscissi a far... No, riesco a farti rinascere. Neanche... Neanche l'idea. Però, ragazzuoli, io ringrazio Yoshi perché ci ha permesso di fare un qualcosa di incredibile. Un qualcosa di folle. 4 e 20 su colt. Ragazzi. No way, completo. Lo abbiamo fatto. Mi raccomando, un pollicione. Un GG per Yoshi incredibile. Grazie, Yoshi. Grazie, però, tantissimo. Anche te sei record, è vero? Vediamo, Yoshino. Sì, sì. 12.586. Vi ricordo, like, iscrizione. Domani arriverà il contenuto con Nemos, forse per le 8.000 coppe. Io lo spero. Vorrei farle, queste 8.000 coppe. Chi lo sa. Speriamo. Un bacio, ragazzoli. Buone vacanze a tutti quanti. Buon esami a chi fa gli esami. Ciao, ragazzi. Ciao, Yoshi. Al prossimo contenuto. Ciao. Ciao, ciao.